Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin, stavo per ricaricarvi praticamente, ve lo dico onesto onesto, parte della live che abbiamo fatto questo pomeriggio io e Dani per l'analisi dei personaggi, ma di BZ Space appena ha ricevuto un aggiornamento, quindi abbiamo completamente le info sui nuovi personaggi, sul banner in arrivo domani e c'è qualche cambiamento. Detto ciò raga, non perdiamo altro tempo se non per chiedervi, come al solito, gentilmente un like sulla fiducia prima di cominciare e dopodiché se siete nuovi del canale vi invito caldamente a premere sul tasto iscriviti per non perdervi nemmeno un contenuto, raga, nemmeno uno di quelli che andrò a pubblicare e dato che è arrivata giusto oggi la versione 3.0 ce ne saranno un bel po' nelle giornate prossime. Quindi raga, non perdiamo altro tempo, andiamo a vederci questi nuovi personaggi belli su cosi. Sigla! Non stiamo nemmeno a dirlo raga, partiamo con Super Saiyan Goku Ultra. Prima di mostrarvi il kit vorrei farvi vedere un attimo nella classifica del power level dei personaggi dove si trova. Primo posto in assoluto raga, ci danno un personaggio free to play che è il personaggio col power level più alto di tutto il gioco. Sempre, chiaramente, Zenkai esclusi. Quindi come tag abbiamo SonFamily, Saiyan Super Saiyan, è un mili type ed è di colore rosso come già sapevamo. Le sue statistiche sono 1.046.000 di power level generale, 2.04.000 per gli HP, 257.000 di strike attack, 164.000 di strike defense, 244.000 di blast attack e 163.000 di blast defense. Ecco, voglio farvi vedere Gogeta Legends Limited a 14 stelle, ha praticamente, bene o male, le sue stesse identiche statistiche, il suo stesso identico power level. È pazzesca raga questa cosa. Main ability, ci peschiamo la ultimate, Super Dragon Hammer, recuperiamo gli HP del 20% e il ki di 50, più 20% di danno inflitto per i prossimi 15 count e dobbiamo aspettare 25 timer count per il suo utilizzo. Dopodiché, unique numero 1, applichiamo i seguenti effetti a noi stessi quando il personaggio entra in battaglia, più 30% di danno inflitto non staccabile, riduciamo il danno ricevuto del 30% non staccabile e ci mettiamo inoltre un meno 5 di costo per le nostre strike per 10 timer count, se ci sono altri personaggi Saiyan oltre a questo Goku in parti con noi, quindi praticamente sempre. Secondo gli unique ability, più 20% di strike damage inflitto contro il tag powerful opponent non cancellabile e inoltre abbiamo un cover change speciale che si attiva sulle blast avversarie. Inoltre, applichiamo i seguenti effetti a noi stessi quando il personaggio entra in battaglia in base al numero di alleati che sono stati sconfitti. Con un alleato sconfitto abbiamo un recupero del ki di 20 e con due alleati sconfitti, quindi questo Goku come last hand, più 30% di danno inflitto non cancellabile, che fino a qua dite, ok, abbastanza tranquillo come personaggio, ma la vera parte goduriosa arriva con questa terza unique ability, che in realtà si chiama Ultra Ability, più 15% di danno inflitto per ogni Saiyan in battaglia con noi non cancellabile, e un altro 15% di danno inflitto per ogni personaggio Saiyan che avremo semplicemente in panchina nel resto del party. Quindi possiamo arrivare a un massimo di 45% da una parte e 45% dall'altra. Abbiamo un 90% di danno inflitto non cancellabile a inizio match praticamente. Strike e Blast, nulla da segnalare, carta blu sono Massive Impact Damage, cancelliamo gli Attribute Downgrade all'attivazione, ok, carta verde è una bella cosetta del personaggio a mio parere. Ci peschiamo fino a due nuove carte, se ne abbiamo tre o meno all'attivazione, infliggiamo all'avversario un Attribute Downgrade, il più 20% di Strike Damage ricevuto per 15 count, quando lo andiamo a colpire ed è una diciamo a raggio come carta verde, e possiamo metterci in combo qualsiasi cosa praticamente. Per concludere, Ultimate sono Massive Impact Damage, applichiamo i seguenti effetti a noi stessi all'attivazione. Più 30% di Ultimate Damage inflitto per 3 count, e ci guadagniamo l'Attribute Upgrade di bucare del 50% la riduzione danno avversaria per 3 timer count, quindi farà parecchio male. Si porta due carte rosse, la prima che ha un Key Recovery Up, quindi un più 30% al proprio Key Recovery per 10 count quando l'attiviamo, e la seconda invece che ha un Key Recovery Down, che dovrebbe corrispondere a un meno 30% di Key Recovery sull'avversario quando lo colpiamo con questa Strike. Di Z Ability portiamolo direttamente ai livelli massimi, dato che è Free to Play più 28% per Tag Cyan o Son Family per lo Strike Attack and Defense durante la battaglia. Anche abbassandolo comunque a 6 stelle abbiamo un più 26% per Cyan e Son Family, sempre per le stesse statistiche. E raga, è una bella branda di personaggio, specialmente per il fatto che il Cyan è un ottimo team ora come ora, e per il fatto che è comunque un Super Cyan, e quindi tutti questi danni pazzi che già può andare a far di suo vengono ulteriormente baffati dalla esistenza di Bardock. Quindi, personaggio Free to Play non promosso, raga, di più, di più, di più, di più. Ora, passiamo a Super Saiyan God Super Saiyan Goku, trasformabile, o meglio, con il Revive. Quindi, Tag, Son Family, Saiyan Godki, Super Saiyan God Super Saiyan, ed è un Defense Type di colore blu purtroppo. Niente rosso anche a sto giro, ma, come dicevo ieri, a mio parere già il fatto che lui abbia il Revive può essere un fattore determinante, che poteva essere di qualsiasi colore, raga, e lui il posto nel team, a mio parere, se lo prende. In ogni caso, vediamolo, prima della rinascita, mettiamola a 14 stelle, 5.000 di livello, abbiamo 1.043.000 di Power Level generale, 2.04.000 per gli HP, 239.000 per lo Strike Attack, 161.000 per la Strike Defense, 226.000 di Blast Attack, e 163.000 per la Blast Defense. Statisticamente, non è affatto Cell 2.0, è un personaggio sparking assolutamente dignitoso, e di conseguenza avete un personaggio giocabile già da inizio match, e non con statistiche più simili a un hero, specialmente per quanto riguardava le difese. Main Ability, ci peschiamo una carta verde, recuperiamo il ki di 50, e la possiamo utilizzare dopo 10 timer count. Unique numero 1, ci recuperiamo il 50% degli HP quando raggiungiamo lo 0, quindi anche qua non funziona proprio come Cell, perché non recupera tutti gli HP, ma vedremo che comunque avremo cose utili anche col 50% degli HP recuperati, e inoltre abbiamo già visto che il personaggio è già più che utilizzabile anche prima di trasformarsi, quindi non è così un lato a suo sfavore. Inoltre, più 20% di danno inflitto per 15 count quando questo personaggio evita un attacco avversario con il Vanish, e più 20% di danno inflitto per 15 count a fine attacco avversario, quindi bene attivabile anche da semplici blast, pugnetti, tutte queste cose qua. Unique numero 2, annulliamo gli attribute downgrade e l'abnormal condition da inizio battaglia per 30 count, quindi non ci possono fare cose strane, e applichiamo i seguenti effetti noi stessi quando entriamo in battaglia. Più 50% di danno inflitto per 20 count e riduzione danno del 20% per 20 count. È tranquillo, raga, inizialmente lui come personaggio, questo kit non esalta più di tanto, ma comunque non è nemmeno brutto quanto quello di Cell pre-trasformazione. Carta blu sono Measure Impact Damage, infliggiamo all'avversario un attribute downgrade del meno 100% di ki recovery per 15 count quando colpiamo scomodissimo, raga, sforza uno switch per forza di cose. Carta verde, una di quelle ad area, tutto attorno a noi, le peggiori possibili da trovarsi contro, chiaramente le migliori da avere su un personaggio in gran parte delle occasioni. Attiviamo i seguenti effetti all'attivazione della carta. Recuperiamo il ki di 30, più 20% di danno inflitto per 15 count e ci possiamo mettere in combo qualsiasi genere d'attacco. Si porta una rossa e una gialla entrambe con dei buff, abbiamo la stripe col ki recovery up e anche la blast col ki recovery up. Ok, so è un più 30% di ki recovery per 10 timer count per il personaggio che va a usare queste carte. Di Z ability abbiamo doppia difesa per Saiyan e Godki, ci piace come ability e ora raga trasformiamolo e vediamo come se la cava dopo essere stato mazzolato una volta. Artwork fenomenale, ma questo già l'avevamo visto ieri. Inoltre, vediamo un po'. Statisticamente vi lascio vedere raga, cambia di pochissimo proprio. Un 10.000 se non sbaglio. Nulla di più raga. Ma è il suo kit che cambia abbastanza. Main ability, ci peschiamo una special move, recuperiamo il kit di 50, più 50% di special move damage inflitto per 20 count e ci recuperiamo pian piano gli HP per 60 timer count. Quindi anche se lui rinasce con la metà degli HP disponibili, grazie a questa main possiamo recuperarcene un bel po', grazie a Vados possiamo recuperarne all'infinito. Facilmente lo vedrete a full HP anche dopo essere stato abbattuto una volta. Unique numero 1, applichiamo i seguenti effetti a noi stessi dopo la rinascita. Più 20% di danno inflitto non cancellabile, riduciamo il danno ricevuto del 30% solo per 15 count purtroppo e meno 5 di costo per strike e blast non cancellabile. Questo potrebbe essere un problema, ma vedremo presto che in realtà non lo è più di tanto. Inoltre, più 20% di danno inflitto per 30 count quando questo personaggio evita un attacco col Vanish sono raddoppiati timer count, ragazzi, questa è una cosa immensa e sono raddoppiati anche qua quando ci pigliamo un attacco, quindi una blastina, un pugnetto, un paio di pugnetti, perché comunque ci sono situazioni dove si va avanti comunque a ricevere possibili bait o pugnetti d'allontanamento, noi ci baffiamo del 20% su qualsiasi danno inflitto per 30 timer count, staccabile 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 e farà un botto male, ve lo assicuro. Inoltre, seconda, gli unic ability, i seguenti effetti si attivano quando il personaggio entra in battaglia. Più 60% di danno inflitto, non si scherza e non è staccabile, quindi ve la possono cancellare, ma quando torna in battaglia ce l'ha nuovamente. E inoltre, riduzione danno del 40%, che tanto raga, c'è non su cover change, è veramente tanto, sempre, sempre e comunque non staccabile e non cancellabile, è una bomba raga. Tutto il resto delle carte, se non sbaglio, non cambia assolutamente di nulla e a mio parere è un buonissimo personaggio. Va a contendersi uno spot duro con Goku God, Zenkai 7 e anche Vegito Blu, ma a mio parere per il revive, per quello che può portare, per i danni che può arrivare a fare con un giusto setup, eh raga, sapete che forse quel posto se lo prende, senza contare che verrà Zenkai baffato da Goku God 7, quindi tante statistiche in più raga. Promette bene, promette molto bene. E ora, Itto Sama, anche lui ci ha portato alle statistiche massime, guardiamoci i tag, prima Universe 6, Rival Universe, niente, Powerful Opponent, è un mini type ed è di colore pure. Statisticamente abbiamo un milione 244 di Power Level Generale, 2.038 per gli HP, 259.000 di Strike Attack, 150.000 di Strike Defense, 236.000 di Blast Attack e 154.000 per la Blast Defense. È senza dubbio un mini type, ma onestamente mi aspettavo, o meglio, potevo aspettarmi anche statistiche difensive più basse di quelle che abbiamo ricevuto, e questo è un pro, è sicuramente un pro. andiamo alla Main Ability, ci peschiamo la Ultimate, recuperiamo il Ki di 50, guadagniamo un Bucare le difese avversario, o meglio, il Damage Redaction avversario del 30% per 20 count, che non è male come cosa, e annulleremo tutti i vari cover change speciali dei nostri avversari per 20 timer count, e questa è una bella bombetta, utilizzabile dopo 25 timer count da inizio match. Unique numero 1, applichiamo i seguenti effetti noi stessi a inizio battaglia, più 60% di danno inflitto non cancellabile, più 100% di danno sulla prossima special move, e wow, e annulliamo il recupero degli HP dell'avversario quando raggiunge lo 0, chiaramente non si attiva sul nuovo Goku, ma si attiva sui personaggi che hanno le Endurance. Semplicemente attaccando, raga, non cancellabile, esattamente come l'hit giallo, esattamente come Demon King piccolo Zenkai. Inoltre, applichiamo i seguenti effetti a noi stessi quando questo personaggio entra in battaglia, recuperiamo il ki di 20, ci peschiamo una carta verde e si attiva una volta e ci mettiamo un più 15% di danno inflitto non cancellabile e lo attiviamo per 3 volte, quindi arriviamo a un tot di più 45% qua, più 60% qua, e già abbiamo un buon hit che sta facendo degli ottimi danni. Unique numero 2, abbiamo un cover change che si attiva sulle strike avversarie e ci possiamo mettere in combo una special move. Applichiamo i seguenti effetti noi stessi quando il personaggio va ad un attacco con il vanish. Ridurremo il prossimo danno ricevuto del 50%, non staccabile purtroppo, ma già il 50% è tanta tanta roba e si attiva fino a fine combo avversaria. inoltre inoltre ci mettiamo un meno 10 di costo per la prossima strike o blast che andremo a tirare anche questo non staccabile e un più 70% di danno sulla prossima strike o blast che andremo a tirare. Anche questo non staccabile ma raga lui si baffa un pochino e fa dei danni pazzi ve l'assicuro. Carta rossa abbiamo praticamente la stessa ability che a Jiren ovvero quella che a ogni utilizzo riduciamo del 10% la riduzione danno avversaria per 10 timer count quando colpiamo blast nulla da segnalare special move sono massive pierce damage recuperiamo il vanish gauge del 60% all'attivazione tanta roba e infliggiamo all'avversario un attribute downgrade del meno 100% di recupero HP per 15 timer count quando colpiamo e abbiamo anche il blast armor in tutto ciò perché è una mossa fisica carta verde recuperiamo il ki di 40 più 30% al nostro critical rate per 20 timer count e aumentiamo il card draw speed di un livello per 20 timer count purtroppo non staccabile ma in caso contrario sarebbe stato un mezzo cheat e abbiamo anche un più 20% sul nostro critical damage inflitto per 20 count anche questo non staccabile raga è bello pazzo hit è bello pazzo hit specialmente dopo un vanish dopo una carta verde può iniziare a fare cose fotoniche ultimate sono massive impact damage più 50% sul danno da ultimate inflitto per 3 timer count dall'attivazione e infliggiamo all'avversario anzi a tutti gli avversari un attribute downgrade il più 3 di tempo di sostituzione per 15 timer count quando colpiamo e anche qua abbiamo il blast armor hit chigasa di brutto forse anche più di goku god ma sono entrambi personaggi molto molto buoni raga guardiamoci le z ability più 38% e a 6 stelle sarebbe un più 33% che comunque è tanta tanta roba per il tal rival universe il colore pur o il colore rosso per strike e blast attack durante la battaglia mega buffer di danno altro personaggio mega promosso che va a fittare benissimo nel team rival universe in quanto mancava proprio un viola se non la vendor ma non è proprio il personaggio della vita hit è molto molto meglio di così e come vi dicevo nell'intro raga abbiamo anche la composizione del banner che è nuovamente cambiato e forse stavolta un po' è meglio penso di sì raga guardiamolo abbiamo come sempre la multi con sp garantito quindi mille crono crystal almeno un sp salta fuori abbiamo come personaggi featurid con un rate dello 0.5% un bel po' di roba interessante comunque perché c'è Goku Black Evo Dispo Toppo Jiren Bergamo Lavender e Basil sono un po' quelli meno che attirano di meno diciamo dopodiché Ciampa Vados i nuovi personaggi con un rate dell'1% quindi un rate superiore a tutti gli altri pg e poi abbiamo ancora una piccola sfilza di sparking non featurid con uno 0.5% di drop rate dove onestamente l'unica roba interessante è un attimino questo Vegeta ma appunto la cosa positiva è il fatto che tutto ciò che non sia i nuovi personaggi abbia un rate più basso e quindi teoricamente avrete più chance di pullare loro due rispetto a qualsiasi altro pg del banner quindi not bad come cambiamento e per concludere raga ho fatto i salti di gioia quando l'ho visto giuro che ho fatto i salti di gioia quando l'ho visto finalmente sta tornando lo Zenkai di Goku Super Saiyan 3 pur raga lo aspettavo da ottobre praticamente da quando è arrivato la prima volta ho detto ma si dai aspettiamo appena torna lo facciamo ecco finalmente sta tornando dopo qualcosa come 5 barra 6 mesi dalla sua prima uscita ce l'abbiamo finalmente che poi fosse un personaggio scarso che dice vabbè non interessa nessuno che torna no è tipo top 3 in qualsiasi tier list che abbiamo mai fatto dalla sua uscita quindi era atteso come il messia al suo ritorno bene raga sono convinto che tra di voi c'è un po' di gente che lo stava aspettando oltre a me quindi le news sono finite qua ci vediamo domani con vari aggiornamenti sugli eventi su tutto quanto vi porterò anche una mezza guida per il tournament of power ma onestamente non l'ho capita troppo bene ora come ora e inoltre c'è poco 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 da giocare quindi si ne parleremo poi molto più hype per ultra goku e per questi nuovi personaggi in arrivo e per lo zenkai di goku super sean 3 raga ci vediamo nel prossimo video un bacione a tutti di goku super